Un messaggio affettuoso a tutti i frati di San Giovanni Rotondo, so che in questo mese Mariano state pregando tanto anche per gli operatori della comunicazione, grazie da parte mia in maniera particolare perché il senso di responsabilità è forte e c'è sempre, ma in maniera particolare in queste settimane così difficili è stato complicato saper coniugare la giusta informazione con una visione anche ottimistica e carica di speranza nei confronti del futuro, per cui abbiamo bisogno veramente del supporto di tutti e le vostre preghiere sono benedette. Grazie.